Signori miei, questa è la maratona della vita, non si smette mai di ballare, sì! Oh, mi sei grandi! Queste cose me le ha già spiegate, la permissita che ne va a dire di Gabriele. C'è zucchero, l'amore è per te, tanto ce n'è per farci cincinambiare. Casa nuova, vita nuova, sì, sì, trasloco. I mostri che abbiamo dentro, che vagano in ogni mente, sono i nostri oscuri spinti e inevitabilmente dobbiamo farci conti. Nessuno sa che sei qui, e non pensare che verrà qualcuno a prenderti. Dio, quanto diamo! A Misery e a Danny Wilkes, che l'ha riportata in vita. And when... Trova la tua strega, scopri la piccola bottega, sì, si sa, che l'orrore lega... Prenderò questo negozio dimenticato da Dio e dai clienti. Vi comprerebbe mai i fiori del resto a Skid Row. Sì, aspetta a testa, non trovate. Non ci portano, non stiamo avanti. Santo. Sono state in parrocchia, dove corso di l'acqua, vai Instagram. Per tutti i secoli dei secoli. Forse se stiamo insieme ci sarà un... Perché? E vorrei scoprirlo stasera. Che va? Un'orto panoramica. Leggete e capirete cosa dovrei sottopormi per avere il titolo. Guardate che razza di tromba d'aria ai cavalieri tutto largo ha scaraventato sulla spiaggia di Mwinsor. È proprio un delinquente, un traviatore della purezza, un vecchio satanato dalla barba bianca. Oddio, io forse dovrei dargli spalle. L'unica cosa di cui posso assicurarvi è che di tutte le nostre indagini questa è stata la più intricata. E in tutta la mia vita non ho mai vissuto un'esperienza così terribile come questa. Come quella che hanno vissuto gli abitanti di Londra del 1888.